un caro saluto da monia parente a tutti voi l'augurio di un sereno 2022 in occasione della solennità di maria santissima madre di dio riascoltiamo insieme la puntata conclusiva della serie di catechesi che don fabio rosini ha dedicato qualche tempo fa alla madre di dio beata con lei che ha creduto a tutti voi buon ascolto e ancora buon anno che era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto mentre però stava considerando queste cose ecco gli apparve in sogno un angelo del signore e gli disse giuseppe figlio di davide non temere di prendere con te maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo spirito santo e la darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai gesù e gli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati ecco dopo aver ascoltato questo testo che ci porta nella nostra ultima trasmissione ad un'altra tradizione noi abbiamo affrontato le tradizioni di luca e di giovanni partiamo dalla tradizione di matteo nel momento in cui giuseppe deve affrontare il mistero di ciò che è generato in maria dovendo fare conti con questa opera questa iniziativa di dio ecco che noi siamo di fronte a un tema che ci può servire da sintesi un po per vedere tutte le trasmissioni che abbiamo insieme vissuto e un po per andare a un nocciolo fondamentale quello che vogliamo tematizzare per l'appunto in questa trasmissione è quel pezzo del simbolo della fede che riguarda proprio maria e che richiese addirittura lo sforzo nel travaglio di un concilio il concilio di efeso nel 431 per definire maria la theotokos termine greco che intende l'essere madre di dio non semplicemente madre di cristo ma madre di dio il concilio di efeso così completa una riflessione che era partita dal concilio di nicea che aveva detto generato non creato della stessa sostanza del padre il concilio di costantinopoli poi aveva incarnato di spirito santo da maria vergine ed ecco che il concilio di efeso aggiunge questo pezzetto al dogma cristiano non nel senso che aggiunge ma rende esplicito qualche cosa che questa definizione che permette di sostanziare ancora di più questo credo come si dice tecnicamente niceno costantinopolitano e credo ovvero sia più lungo che diciamo in genere durante la santa messa perché è importante questo tema perché la chiesa dovendo definire questa realtà di maria come madre di dio sta dicendo qualche cosa che non è semplicemente una indicazione che la riguarda è molto ma molto di più noi vediamo che qui c'è una esplicitazione di quello che è avvenuto in maria tutto il nostro viaggio tutto il viaggio che abbiamo fatto accanto a lei vedendo la sua avventura dall'ingresso dell'angelo nella sua casa e dall'annunzio di gabriele a lei fino all'essere in preghiera con i discepoli nel libro degli atti degli apostoli è l'avventura della fede e questa avventura della fede in lei prende una forma ben precisa che la chiesa ha dovuto definire come una cosa che è legata a cristo in una maniera così straordinaria lei è madre di dio ovvero sia ciò che noi vediamo in lei continua ad essere una luce sulla vita di ogni cristiano per questo ciò che appunto la chiesa va definendo è qualcosa che riguarda da una parte fondamentalmente la definizione di chi è il signore gesù perché dobbiamo ricordare come dice il grande mariologo rené laurentin a rigor di termini non esiste un dogma mariano esiste un dogma cristiano di cui la madre di cristo è parte integrante ovvero sia capire la vergine maria parlare di lei maria ha in sé per la sua verginità la certezza che è un'opera di dio la verginità di maria diventa la condizione perché l'iniziativa sia completamente da parte del creatore da parte di dio padre per opera dello spirito santo e quel che in lei come abbiamo scrittito nel testo iniziale è generato dallo spirito santo qui è come se in un certo senso dio stia completando la creazione perché l'uomo nella carne di maria arriva all'unione completa appunto con dio questa cosa qui è una luce sulla nostra esistenza è una luce sulla nostra vita è una luce sulla vita cristiana la verità dell'uomo è questa unione con dio noi non capiamo l'uomo finché non capiamo la sua avventura come questo diventare fino in fondo una sola cosa con dio noi se noi pensiamo a quello che celebriamo in ogni eucaristia in ogni eucaristia noi celebriamo questo diventare una carne sola con cristo lui che viene in noi e noi che diventiamo lui noi non capiamo la santità le opere cristiane se non partiamo da questa luce che l'avventura di maria dà su tutta la fede cristiana un martire per esempio è un pezzo di cristo è un altro è un alter cristo si impieno come ogni battezzato è chiamato ad essere il vangelo di luca infatti ci ha presentato il martirio di stefano nel secondo libro negli atti degli apostoli perfettamente parallelo alla croce di cristo stefano come abbiamo già detto in un'altra trasmissione muore ripetendo le stesse frasi di cristo c'è una uno scopo la cristificazione dell'uomo oggi noi questa cosa la stiamo un po perdendo da importante quindi capire come avviene questo in maria perché diventa una chiave perché ciò avvenga in tutti noi se torniamo al testo con cui abbiamo aperto questa trasmissione siamo di fronte all'enigma di giuseppe giuseppe è di fronte a un fatto straordinario che ha il rischio di interpretare in maniera ordinaria la sua promessa sposa è incinta ed ecco che la prima lettura è la lettura così carnale questa cosa qui viene dall'uomo questa è una tentazione che abbiamo anche oggi di interpretare in maniera carnale le opere cristiane programmare che maria è madre di dio è aggredire nello spirito questa nostra tentazione nella tentazione di vedere tutto semplicemente come un problema umano perché questo è pericoloso perché trasformare il vangelo in una cosa a cui io devo rispondere con la mia forza è una cosa gravissima perché fa diventare il vangelo un moralismo schiacciante inarrivabile trasformare Gesù Cristo in un semplice esempio da seguire anche logicamente lo è ma non lo è solamente questo è molto pericoloso ovvero sia se io mi pongo di fronte al vangelo e cerco di compierlo con la mia capacità umana io non arriverò mai a quello che Cristo ha fatto e inoltre c'è un problema e perché mai Cristo allora è venuto a fare qualcosa che potevo fare da solo bastava saperlo allora sarebbe bastato che qualcuno mi informasse su ciò che dovevo fare ma questo non è la fede la fede non è un impegno dell'uomo che risponde ai dettami della legge per cui si mette e tira fuori il meglio di sé il meglio di noi per quanto ci sforziamo non barcherà mai la soglia dell'abisso del nulla il nostro limite impone una incompiutezza naturale che c'è nell'uomo ovvero sia la nostra creaturalità necessita per arrivare all'eternità per arrivare alla pienezza di qualche cosa che non viene da noi noi non possiamo pensare di fare del cristianesimo semplicemente un'opera umana che viene dalla psiche e dalla capacità e dalla sensibilità dell'uomo che viene dal suo impegno se così fosse noi saremmo di fronte a una cosa che somiglia a una filosofia non è un incontro somiglia ad un'etica ed è gravissimo oggi noi abbiamo questa tendenza parlare alle persone predicare anche al cristianesimo tutto nella chiave della richiesta del loro impegno della richiesta del loro sforzo stiamo guardando a Maria per capire la fede e capiamo che questo punto assolutamente va ricordato Maria la stessa immacolata concezione Maria non avrebbe mai potuto da sola generare il figlio di Dio doveva intervenire Dio ma a questo punto noi possiamo rischiare di andare dall'altra parte possiamo rischiare di dimenticare che la nostra bella fede è sempre un po' paradossale noi non potremo mai generare una compiuta opera cristiana da soli perché la carne non può produrre da sola l'opera di Dio non può produrre la vita eterna non può produrre l'amore di Dio produrrà il suo amore umano possiamo pensare allora andando all'altro estremo allora l'uomo non conta niente allora è tutta un'opera della grazia è tutta un'opera di Dio e qui cadremo dall'altra parte sarebbe un altro errore madornale sarebbe una passività che Dio non ha concepito che Dio non ha messo in atto qui c'è il fatto che la grazia suppone la natura dell'uomo infatti noi dobbiamo arrivare alla sintesi meravigliosa che è sotto questa definizione di Maria come madre di Dio lei è madre fisicamente ma di Dio e solamente Dio poteva dargli di fare questo ma è lei che lo fa noi arriveremo alla definizione di Santi Raneo di Lione meraviglioso, splendido, luminosissimo padre della chiesa che dice caro Capax Dei la carne è capace di Dio non è vero che Dio fa tutto, punto e basta noi siamo semplicemente passivamente ricettori della sua opera no, noi siamo capaci di accogliere l'opera di Dio Maria è madre di Dio Dio interviene lei, non lo potrebbe fare di suo ma lo fa con il suo assenso nella sua carne vive un'opera di Dio cioè l'incontro vero fra Dio e l'uomo noi nella nostra fede non siamo chiamati né a vivere secondo moralismo per cui è tutto un nostro impegno né a vivere secondo uno spiritualismo passivo un fatalismo per cui tutto quanto è semplicemente iniziativa di Dio dove noi non contiamo niente, non è vero? è meraviglioso come Dio ha pensato la nostra natura umana che in Cristo si svela compiutamente e che senza Cristo non potevamo capire la natura umana è capace di generare in sé l'incontro per la potenza di Dio proprio dell'opera di Dio di fare le opere di Dio Dio opera nell'uomo noi possiamo con Lui e non senza di Lui vivere secondo Cristo infatti questa è la santità avevamo accennato prima il fatto che un martire è come un pezzo del corpo di Cristo lo è veramente in realtà ogni battezzato lo sarebbe cioè quando ci avviciniamo a qualcuno che lascia fino in fondo spazio alla grazia e con la sua povera debolezza però dà il suo assenso a Dio Dio opera in Lui e noi abbiamo finalmente appunto l'incontro con la manifestazione del compimento della creazione ovvero sia Dio ci ha creato per arrivare a questo punto questo però non si fa senza libertà e la nostra libertà è definitiva quando definiamo Maria madre di Dio noi stiamo definendo la carne capace di questa esperienza ognuno per la propria missione ognuno per quello che gli concerne quello che la provvidenza ha riservato a Lui ognuno di noi nelle sue opere è chiamato a essere oggetto della grazia sede di una potenza di Dio che si manifesta particolarmente e che è la cosa che noi celebriamo in tutti i sacramenti nel battesimo noi veniamo uniti alla Santissima Trinità immersi in Lui nella cresima veniamo unti come Cristo per avere la sua missione avere il suo principio di azione lo Spirito Santo nella carne che l'uomo ha può veramente scendere lo Spirito Santo nell'Eucaristia noi diventiamo un corpo solo con Cristo nel sacramento del matrimonio gli sposi diventano immagini di Dio compiutamente Dio è in mezzo a loro nel sacramento dell'ordine il ministro del sacerdozio di Cristo per esempio nel secondo grado compierò le opere di Cristo dice io ti assolvo e questo è il mio corpo ma chi è che lo dice? è Cristo che lo dice per mezzo della sua povera carne è veramente Dio entra nella vita delle persone con i sacramenti e appunto nel sacramento della riconciliazione il perdono di Dio viene mediato dalla carne umana Dio ha scelto di introdurci nella sua vita di darci la sua vita noi possiamo essere il luogo dove si genera l'opera di Dio la fede non è una consolazione per stare un po' meglio in questa vita la fede è quel movimento quella dono di grazia quella virtù teologale per cui è nello stesso tempo teologale cioè un dono di Dio ed è virtù va esercitata implica il nostro atto implica la nostra libertà per cui l'uomo diventa spostato dal suo centro dal suo ego al tu che è Dio si abbandona compiutamente alle parole e alla potenza di colui nel quale crede abbandonando la solutizzazione della propria intelligenza e delle proprie forze per arrivare a vivere secondo Dio la vita secondo Dio è quella che abbiamo contemplato in Maria è quella vita che vede in sé generare la potenza di Dio è quella vita che canta l'opera di Dio è quella vita che sa iniziare a vivere secondo una nascita costante in Dio perché Dio ci genera ogni giorno come dice il Salmo II mio figlio sei tu io oggi ti ho generato c'è un quotidiano reiterare la meraviglia dell'irruzione di Dio nella nostra vita una cosa che è l'incontro straordinario tra la nostra libertà e la generosità l'amore di Dio Maria è madre di Cristo Maria è madre di Dio ogni cristiano è fratello sorella madre di Cristo secondo la parola che abbiamo nel Vangelo perché ognuno di noi è chiamato a essere canale ognuno per la propria provvidenziale situazione ognuno per il ruolo peculiare che ha nel corpo più grande di Cristo che è la Chiesa essere canale dell'azione di divenire compartecipi della sua azione potente ti chiediamo madre di Gesù un cuore semplice umile paziente abbandonato a Dio grazie a tutti